Io credo che sia un'ottima idea quella di poter utilizzare lo stadio per dei grandi concerti. È normale che immaginare un concerto allo stadio presuppone un'organizzazione completamente diversa, lo stadio ha una capienza completamente diversa, quindi si va su un target di artisti da stadio. Quindi con dei costi di produzione che sono oggettivamente diversi. A me piacciono le arene, io amo le arene, l'Arena Musa per me resta uno dei posti più belli della città per fare concerti. Quindi ben vengono queste cose, se dovesse la città avere la possibilità di avere i concerti allo stadio sarebbe sicuramente un punto a favore, però io amo le arene. L'Arena Musa per me è, ripeto, uno dei posti più belli della città per i grandi eventi. Ha dei limiti legati alla viabilità, al parcheggio. Se riusciremo tutti quanti, sedendoci ad un tavolo con le istituzioni, a coordinarci e capire quali sono questi limiti e a venirci incontro, io sono ben felice di continuare ad utilizzare l'Arena Musa, però dobbiamo aiutarci a vicenda secondo me. Credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro sotto tantissimi punti di vista, quindi siamo felici. Da settembre ripartiamo, adesso ci fermiamo per un mese, poi da settembre ripartiamo con l'Accademia, a ottobre, a fine ottobre ci sarà il BCT Extra, il progetto speciale del Ministero della Cultura e cominciamo naturalmente a lavorare sulle prossime edizioni, speriamo anche con altri progetti. Insomma non ci fermiamo, siamo al lavoro costantemente, però adesso ad agosto ci fermiamo perché siamo un attimo cotti. Grazie a tutti.